E ragazzi, come va? Io sono Periniki E io sono Steph E questo è Giugia Crema Roblox E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Angelica, Alessandro, Olly Sims, Xiang, Francesco e Alessia Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi Guardate dove siamo oggi Siamo in una mappa fatta perfetta per Pokémon Dato che in questo periodo stiamo giocando a Pokémon Go No, non l'avrebbe mai detto nessuno Abbiamo scelto una mappa di Roblox Dove andremo ad avere diciamo la nostra fattoria di Pokémon La nostra base di Pokémon Non saprei neanche come chiamarla ma sarà qualcosa di epico Ok, iniziamo come sempre prima di tutto Cosa stai facendo? Sono felicissima, sono felicissima Allora, io non so bene Tu hai detto che sarà una fattoria di Pokémon Ma io non so bene cosa si andrà tutto a ottenere L'abbiamo vista oggi questa mappa L'abbiamo vista e ho detto perché non farla Dato che siamo in tema Pokémon E cosa tutto ci sarà Sono super emozionata Posso farti vedere una cosa un attimo? Cosa? Vieni qua Aspetta, aspetta, vengo Guarda questi vestiti Cosa c'è? Oh mio Dio Dimmi che li posso comprare No Aspetta, vanno shoppati No Non puoi, non puoi Allora, allora Me li regali 5 euro No Perché? Perché non ti riferiti Sei tirchio Sei tirchio Guarda Hai già iniziato senza di me Oh mio Dio Voglio andare anch'io qua Oh mio Dio Ma no, tenta Magari fa male a qualcosa Non lo so che bellina le Pokéball Guarda che carine Facciamo soldi fabbricando Pokéball oggi Oh mio Dio È una cascata di Pikachu Oh mio Dio È bellissimo, è bellissimo Vorrei stare qui tutto il giorno Nella cascata di Pikachu? Sì, proprio lì sotto con tanti Pikachu che arrivano Deve essere bellissimo Deve essere bellissimo Non lo so, non ne sono sicuro Comunque è così Così le nostre Pokéball valgono di più Ti vorrei chiedere una cosa Abbiamo sbloccato qualcos'altro Qua ci sono dei tasti Sì Ma le mura e il carpet, il tappeto Esatto Il pavimento insomma Vuoi iniziare ad avere le mura? Sì, sì Ok, eccole Ah, ok, vabbè Somma, eccole Vabbè dai È il primo grado di mura Penso che poi diventeranno sempre più alte Esatto Vieni a vedere qua un attimino Oh mio Dio C'è qualcuno che ha già finito più di noi Ma l'hai visto? Che bello Oddio, sarà bellissimo Vieni qua, vieni qua, vieni qua Ah, ti devo far vedere una cosa bellissima Prima c'era una cascata di Pikachu Ah, tu mi devi far impazzire Mi devi far impazzire Vieni qua Che carini Ehi, ehi Comunque guarda Chi sei? Devo dire Scusa Guarda, c'è una macchina fotografica Vuole fare le foto della nostra base Le foto della nostra fabbrica Vai via Vai via C'ha gli occhiali da sole per far finta di nulla Secondo me sai chi è È quello che ha quella base gigante Quindi sta spiando gli altri La concorrenza Che hanno appena iniziato Esatto Vero Esatto Guarda, battene prima che ti do un calcio mortale Ma secondo me è crashato qua Sta facendo finta, vero? Io non vorrei dire Speriamo di non crashare anche noi Mi sembra che sia crashato realmente Pazienza, ascolta Facciamoci i fatti nostri Non voglio andare a vedere quella fabbrica Perché non mi voglio spoilerare Che cosa sta succedendo? Che abbiamo 4.600 Sì, è scomparso Quindi lui è crashato, ragazzi Dobbiamo sperare di non crashare anche noi Succede ogni volta Te l'avevo detto Era troppo fermo Andiamo veloci Andiamo veloci Così nel dubbio Ho paura Allora Cioè la produzione mi stai dicendo Che è aumentata così tanto Sì, 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 sì Che bello Adesso possiamo aggiungerne un'altra Bravo, bravo E guarda adesso Abbiamo Pikachu, Bulbasaur e Squirtle Il prossimo è Charmander per forza È il prossimo è Charmander per forza Continuiamo infatti a metterne E infatti Uh, aspetta, aspetta, aspetta Sì? Sono apparse Sono apparse un sacco di cose Oddio Guarda Pikachu La statua di Pikachu La statua di Bulbasaur e la statua di Voltorb 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 Sì, ci sono le statue di Pokémon Costano tantissimo Costano davvero tanto Ma stiamo facendo tantissimi soldi E te lo dico Sì, penso che ci metteremo però un po' Dove? Qui, 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 qui Perché tu hai detto Charmander, giusto? Sì Ok, guarda Charizard direttamente Potentissimo Proprio è la potenza Vedi, riconoscono la potenza di Charmander La metà delle Pokémon stanno cadendo a terra Quindi stiamo perdendo soldi Scusate, questi sono soldi nostri Gioca a calcio, gioca a calcio Guarda Pa-pa-ma Dove sei? Ti ho visto volare Che vero Ho volato Allora, non prendiamo più a calci le Pokémon, ok? Ok Stiamo fermi Mi sembra una buona idea Allora, abbiamo 10.000 da spendere La produzione credo che sia al massimo Da ora in poi facciamo questi soldi Sono tantissimi Dobbiamo iniziare a comprare le cose più seriamente Allora, prendiamo il pavimento Muri e finestre Dai, il pavimento Il pavimento Va bene, il pavimento Ok, bellino Mi aspettavo qualcosa di più carino Però va bene Alla fine ti indica dove poi saranno le cose Esatto Perfetto, vai Finestre Quali sono? Mura Guarda sopra Guarda che bello Oh mio Dio Stai già infazzendo Abbiamo altri 10.000 Sì, che sono troppo per seconda Allora, possiamo comprare la seconde conveyor Secondo te cos'è? Conveyor non ho idea Proviamoci Probabilmente Ah Vedi che non è finita la nostra produzione E allora facciamo tantissimi soldi La nostra produzione di Pokéball Non è per niente finita E allora facciamo un sacco Hai notato una cosa? Sì Vini qua Arrivo Si può comprare il secondo piano per 70.000 Quindi avremo anche Crasheremo prima Il piano super Allora, non portare sfiga Per favore Ma tanto succede? Cioè, entro 10 minuti crasha tutto Perdiamo tutto E piangiamo Non deve succedere per forza Non deve succedere per forza E noi arriveremo ad avere il secondo piano Mio Dio che bello Ok, adesso ti faccio vedere un'altra cosa Visto che abbiamo messo la seconda linea Vieni da questa parte Grazie Possibilmente non colpire le nostre Pokéball Che prendiamo i soldi Guarda, ho fatto un salto perfetto Bravissima Guarda Zubat Oh mio Dio Aiuto È fantastica sta cosa È un po' stretto il posto Quindi è difficile non andare sopra tutto E tecnicamente è fatto per uno E noi che siamo in due Diciamo che stiamo occupando troppo spazio Troppo spazio, dici? Esatto Ok, abbiamo tantissimi soldi Una statua Una statua Vuoi una statua? Dai, ti prego Una Allora Sì, sceglila Ce ne sono tre diverse di Pikachu Ne puoi scegliere una o da 7500 O da 10.000 Perché le altre costano troppo Ok, però io ti volevo chiedere Cosa sta ad indicare il fatto che ci sono tre statue diverse di Pikachu? Magari sono tre statue diverse di Pikachu diverse Non lo so Allora Allora una di Pikachu, dai Una di Pikachu che costa 10.000 La prima? Ho quella in mezzo Una a caso Una a caso La prima Ok, vai Ciao Ah, probabilmente avremo tre Pikachu diversi? Penso di sì Che figata, è troppo carina Io ci salgo sopra Aspetta Guarda come l'hanno fatto bene Ciao Ciao No, ci sto solo io Allora abbiamo 45.000 Io direi che a questo punto Anche se Secondo piano Esatto Anche se dobbiamo comprare ancora tantissime cose Iniziamo a comprare il secondo piano Perché siamo dei bambini Voglio vedere subito cosa c'è sopra Sono curiosissima Ok Probabilmente ci sarà Secondo te Teorizza Allora, proviamo a teorizzare Ci saranno altre pedane per la produzione Ok O ci saranno un sacco di statue Secondo me è il crash del gioco E continui a portare sfiga Secondo piano Anche le scale Sì Altri 75.000 per le scale Questo non ce l'hanno scritto Ci hanno truffato malamente Con questa cosa Sì? È un tetto Non c'è nulla No, no, no Vedi che ci sono le scale da comprare Quindi su si può andare Però ci costano Altri 75.000 Facciamo una cosa Sali sopra di me E poi salta Ti piace Ribaghiamo il personale Aspetta, aspetta Ti devi avvicinare più Aspetta, ce la faccio Allora, no Vieni qua Ok, salta Vai Dimite, secondo me ce la faccio Vai No Che dici, ce l'attiviamo anche noi Visto che lo posso disattivare per te Sì, sì Allora, non pensavo si potesse disattivare Pensavo che fosse personale Capito? E non lo potessi disattivare Quindi si va bene Ok, vieni Guarda, vedi Ah, ma c'è il bottone Lo posso attivare e disattivare Passa Ma questo secondo me non c'è in tutti i tycoon Anche secondo me Quindi, è una cosa magari di questo Fammi entrare Così impari Almeno adesso sarei tristissima No Sarei tristissima Perché le fatele ancora giovane Torna qui, dai Sono già viva Ho mille vite come i gatti Anche se i gatti sono nove Ma io ne ho mille Vabbè Ma non ne ho sette? Sei ubriaca Accoltami Hai visto troppi Pokémon oggi? Stamattina abbiamo camminato un sacco Ho preso troppo sole Quindi Vieni dentro Mi dico che i gatti hanno nove vite Oggi hanno nove vite Ok, vieni dentro Riattiviamo questo Comunque erano sette Ho fatto un film incredibile Ok Abbiamo duecentomila di totale Allora, attiviamo tutte le produzioni possibili Abbiamo, guarda, l'oop glider di Mute Poi abbiamo un altro production E credo basta Sì, sì, sì Allora, il tipo è sul nostro tetto Scusa, come hai fatto a salirci? Come hai fatto? Come hai fatto? Abbiamo messo due ore provandoci Non ci riuscivamo in nessun modo Allora, prendi le scale, dai Sì, sì Vieni Oh, finalmente Cosa c'è quindi sopra? Allora, altri mura Un altro carpet Pavimento Poi Faccia, faccia Cos'è Porsche's Face? È light Dice luci e face Cosa sarà questo face? Non è la più pallida idea Non lo so Però lo voglio provare Ma costa troppissimo Dobbiamo aspettare un po' Però guarda che bella È la nostra fabbrica dall'alto È la migliore È la migliore Anche perché due sono vuote Una è di quest'altro Quindi la nostra è la migliore Oh mio Dio Mi sono pure incastrato Evviva Una bambina di due anni Guardami, ciao Ciao È più figo di te Charizard però Mi dispiace Lo vorrei Ho sempre sognato di avere un drago L'ho già detto più di una volta Quindi almeno lo posso avere qua Nella fabbrica Ok Allora Adesso abbiamo 66.000 Io forse vorrei iniziare Ho tirato qualche pokeball via Vorrei iniziare a provare a vedere qualcosa del tetto Che dici? Sì, anch'io Anche perché qua sotto Mi sa che ci rimangono solo queste statue Vero? Non abbiamo altro Vieni, vieni, vieni Sì, mi sa di sì Abbiamo le statue e poco altro Produzioni, no? Provo a prendere i muri Sì, 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 sì Ok Ma di no, sono bassi Cioè ci truffa totalmente Perché adesso altri 100.000 Per quelli alti Sono un po' care queste mura Io te lo dico Sono un po' care Ci stanno fregando Ci stanno fregando Allora noi per fregarlo Ci prendiamo il pavimento Invece che gli altri mura Ok? Non ci credo Ci sono le ultime mura E pure le finestre Vabbè Questi ci vogliono male Allora Guarda cosa c'è qua C'è lì, sì Mila Dimmi che c'è lì Ti prego Sì Andiamo Sì perché in diversi taikun Si possono comprare le armi E far fuori gli altri player Lo sai questo? Sì Sì, sì, sì Vabbè qua ci permette solo di saltare Ma è comunque divertente Oh mio Dio Uh, sono saltata ancora di più Aiuto Non riesco più a scendere Aiutami Eccomi Cos'hai preso? Oddio Aspetta Togliti Sto volando Aspetta Sto volando Com'è possibile? Aspetta l'ho preso Dove sei? Ciao Eccoci Ciao Il bello è che tu mi chiedi Anche come faccio Ad amare così tanto Roblox Cioè guarda Guarda quello che puoi fare Hai una fabbrica di Pokémon Puoi comprare delle armi Puoi volare con un tappeto È fantastico È troppo bello È troppo Bellissimo Una Bellissima Due Wow Tre Vicine sono fantastiche Poi abbiamo Sono rabbiatissimi poi Bulbasaur Bulbasaur Troppo belli Pikachu Pikachu Oh mio Dio Oh mio Dio È bellissimo Aspetta mi puoi comprare Tutte queste cose E metterle in camera? Sì Voglio delle statue giganti Di Pikachu Ma le regali? Io voglio il tappeto volante Preferisco Ma è bellissimo Bellissimo Abbiamo finito comunque Il piano terra È vero È finito Tutto 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 Siamo stati bravi Siamo stati bravi Abbiamo 200.000 Io direi di finire le mura Dato che ci sta facendo sudare Per le mura Finiamole Assolutamente Finiamo il tetto Ok Non ci credo C'è pure il tetto 150.000 Eh immaginavo Sì Proviamo un'altra arma Proviamo un'altra arma Senza tetto Proviamo un'altra arma Oh che cos'è? Questo lo facciamo fuori sicuro Aspetta Aspetta non mi far fuori a me Aiuto Si spara davvero Dov'è? Dov'è? Tutti contro di lui Sì 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 Spara lui Spara lui Eh sta saltando Spara lì sopra Ok sì Siamo brutte persone Lui voleva semplicemente Vedere la nostra fabbrica E noi l'abbiamo sparato Ok Già Però vedi quanto è divertente Far fuori gli altri player È vero Diventa proprio capito Una lotta A tenere la fabbrica Perché sono morta Sei serio Hai detto che era divertente Sei serio E di girata Io ho comprato una katana No io stavo parlando Stavo esponendo i miei pensieri Sulle armi E tu hai provato a farmi Una cosa del genere Apri la porta Guarda muoviti Guarda non mi minacciare Guarda di che cosa sono armato Che cos'hai? Una katana Mi vedi? Sei una persona terribile Ok Proviamo il face Vediamo che cos'è Sono curiosissimo ormai Vai Questo qua è quello che costa meno Cosa potrà essere? Ah Ok Me ne vado Addio No è un po' una delusione Sono proprio faccine Io mi aspettavo magari Una faccia di un pokemon Qualcosa di particolare Invece è stata un po' una delusione Non una delusione È uno schifo Ah ma aspetta Sì? Ti sei messo quella faccia E allora sì Che figo Oh mio dio Aspetta Me la vado a mettere Aspetta 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 Così dovrebbe È andata Con la katana in mano Ci sta ancora meglio Guardami Oppure con la pistola Aspetta aspetta Guardami Così sembriamo malintenzionati E dimmi che non son cattivissima vestita così Dimmi che non son cattivissima Ok direi di fermarci così E' stato troppo troppo carino Mi è piaciuto tantissimo sto taekun L'hanno fatto davvero bene davvero divertente Quindi giocatelo anche voi Ma prima di finire il video andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Ivan, Maria Vittoria, Ale Kawai, Zafrin, Masu e Andri Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Bene che ci vedete così Se vi è piaciuto sentici un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao